E se la tua vita diventasse come il collegio? Buongiorno signorine! Il sole è alto e vi sta aspettando! In piedi! Ma chi è sta qua? Ma dov'è la mamma? Bene, vi do dieci minuti per lavarvi, vestirvi in modo impeccabile e scendere da basso per la colazione. Ma con quei vestiti lì? Sì! Muovetevi! Scusi, signora Hitler. Come prego? Ma niente, un'info. Ma i nostri genitori che fine hanno fatto? I vostri genitori non esistono. Esisto solo io! Che culo! Signore e signori, a nome del corpo docente, benvenuti nel collegio! Nel collegio? Se siamo a casa nostra. E adesso una sana e nutriente colazione. Oh, benissimo! Perché la colazione è il pasto più importante della giornata. Spalmiamo Nutella come se non ci fosse un domani. Grazie. No! Olio di fegato di merluzzo. Delizioso e nutriente. Magari un'altra volta, eh. Grazie mille e buona giornata! Adolf! Ciao, nonno. Scusi, ci muoce. Donna? 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 Io non sono la nonna. Sono... La sorvegliante. Eh? E adesso consegnatemi tutti gli oggetti elettronici. Signorine, corra e marilù. Corra e marilù? Marilù! Eh? Marilù! Eh, vabbè, nonna. Lasciamo stare. Ma hai preparato qualcosa da mangiare? Tipo la tua bella parmigiana di melanzane con la saporita gustosa. Sì! Ho preparato qualcosa da mangiare per voi. Che cosa hai preparato, nonna? Di buono. Testa di porco burrita. Ma che schifo! Cosa avete detto? Signor Preside! Nonno? Perché ti sei visto così? Zitti! Non rivolgetevi al Preside con questo tono! Maleducati! Nonno, ma poi tu non assomigli al Preside del Collegio. Il Preside del Collegio! Me lo sono mangiato! E adesso, signorina Mannucci, la sua cena è terminata. Ma chi è signorina Mannucci? Signor Preside, guardi che lei non è la signorina Mannucci. Lei è Marilù! 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 Andiamo a prendere la professione da mangiare? Ottima idea, andiamo! Sì, salve! Vorremmo duetti di Fesa di Tacchino, grazie! Oddio no, ti prego! Signor Gambuzza! Ma chi è Gambuzza? Cos'è per lei la Fesa di Tacchino? Eh? La Fesa di Tacchino? Cos'è? Per lei? Eh, boh boh, una cosa da mangiare! Già mai! La Fesa di Tacchino è un taglio altamente pregiato, povero di lipidi ed è estremamente consigliato per una dieta salutare ed equilibrata! Ok, ma ce lo dà o no? Signor Carrozzo. Marangiolo. Carrozzo. Mi sono consultato con i colleghi. Ma sei da solo? E ci siamo trovati d'accordo sul fatto che il ragazzo non è ammesso al collegio. Vabbè, panino al Mac. Panino al Mac. Salve! Io non ce la faccio più, ti prego, dobbiamo mangiare. Andiamo al McDonald's, andiamo al... Non so dov'è, però, aspetta che chiedo qualcuno. Sì. Scusi, sa dov'è il McDonald's, signore? Signor Trabagliante! Signor che? Signor Trabagliante! Sì, signor Trabagliante! Qua son tutti pazzi. Tu andiamo via? La signora. La signora, secondo me, è educata. Scusi, signora! Chi è questa cosa? Il mio telefono. Che ci fa col trucidino? Signor Presidente! Non lascia, io no. Niente. Vabbè. Mi scusi. Mi scusi, almeno lei. Almeno lei. Vi taglio i capelli! Basta, basta, basta! Signore, ma perché la nostra vita deve essere come quella del collegio? Con tutti quelli che ci sono non poteva capitarci un altro reality? Come volete voi, ragazzi. Eh, bene, bene. E adesso? Boh, sembrava tutto normale. Amore? Amore. Tesoro. Che c'è? Abbiamo una bella notizia per voi. Ci hanno presi! Ma chi? Tutti e quattro, amore! Andiamo a fare un programma in tv tutti insieme! E quale programma, scuso? TESTATION ISLAND! 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 TESTATION ISLAND!